si parte tu me tira come nadar londo si è formato la pongo del settembre a tagotto a me 5 come nadar londo si è formato la pongo del settembre a tagotto a me 5 a me 5 a me a me il codice sconto è sempre lo stesso ed è fishmore 15 ed è valido su tutti i prodotti di lr segnatevelo perchè è quasi sempre in corso quindi se fate acquisti sul sito usatelo ed è valido su tutti i prodotti mentre la crema che faccio sempre vedere la tengo vicino al comodino è la wonder body al veleno d'ape ed è ottima per la cellulite per la circolazione delle gambe io la applico tutte le sere prima di andare a dormire per questo la tengo qua ed è super drenante raga è veramente una manna dal cielo vi lascio anche il link dello swipe è è è è è è è è